Affinché rimanga per sempre il ricordo del passaggio del Gran Maestro Domizio Torrigiani da quest'isola, da quest'isola della libertà, noi procederemo a scoprire una targa in ricordo e in omaggio del Gran Maestro Domizio Torrigiani. E lo farò con le parole contenute nella circolare che il Grande Oriente d'Italia inviò a tutte le obbedienze massoniche nel mondo per annunciare il passaggio all'Oriente Eterno del Gran Maestro. Noi, i massoni esuli, proscritti, noi che conserviamo accesa la fiamma che ci fu affidata, noi che la persecuzione fascista obbliga a cercare in una terra diversa dalla nostra, asilo per i nostri templi, per i nostri vessilli, per i nostri archivi, per i nostri lavori rituali, noi attendiamo con ansia il giorno in cui potremo rientrare nella nostra terra finalmente liberata. Allora noi ci riuniremo, secondo il rito, attorno all'ossatora e dopo averla ricoperta di ramoscelli da Itacia, noi chiameremo per nome il nostro Maestro e sicuramente all'ultima chiamata tutti i massoni risponderanno per lui, presente. Grazie.